Stefano smetti di andare a cercare di romperti il letto da solo ma mi son bugato oh me l'ho bugato ok, non ce la faremo mai, non ce la possiamo ok si lo so stefan la sto laggando io no, o laggo io o laggo il server mille ma diciamo oltre a fatti avvio già che sui ponticado eccolo infatti in base a 20 piedi ecco la gola 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 si sta arrivando un verde in base stefano arriva un verde in base vai taggoli io sono presentatore se mi vedi taggoliamo stefano c'è un verde in base che mi ha buttato di sotto alla peggio maniera abbiamo perso abbiamo già vinto una volta praticamente si ci ho fatto un letto? si, ho perso vai due e gioco ancora no stai, non presentare leva la presentazione non te guardo non te guardo, si lo so, e già una volta e tanto sarebbe ok sto laggando mille non so neanche quanto io fps faccio ecco un po' eh ok nel mente che mi si apre green bar cosa ho mangiato di bello di buono pranzo io ho detto tu spaghetti rossi spaghetti rossi si buoni spaghetti rossi c'è 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 no 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 dai dai ciò possiamo fare c'è un diciamo ok 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 l'ultimo l'ultimo mi si era di più mi era diventato una volta quando avevamo vinto la nostra prima vita di core capo quando io avevo usato la TNT per sblocare la strada dei lati scuola l'ultimo 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 c 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 cosa significa perché c 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 perfetto ecco la riusc c matthias silenzio stagicca c 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 stefan dai per favore veloce dammi il ferro dammi il ferro mi sai la colago non puoi capire quanto no non sono stato io il legno superletto stefan veloce dai veloce guarda veloce guarda veloce vai d oddio ma portato indietro no no tutto 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 stefan no co è lasciato una parte scoperta no ma dai stocco 2000 stefan no stefan io potevo ancora vincere guarda finché non ti fa team giallo no no team la cosa quello lì tuo elim dato ok 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 purò ok ok io ok 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 e niente che bello ok 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 ho pensato in giudizio che bello cioè la pagina impallata lì davanti che bello essere felpa verde con la faccia in mezzo al mirino anche se sei rosso così così mi prendo i cosmetici le salivano in blu ah no lui al cosmetics non mi ci fa entrare perfetto chi mazzurro è stato eliminato ok vamos le sa anche il bingio dei perchè è rimasto un giocatore solo nella parte del gioco no cosa stai facendo appare tra l'altro la stessa mappa di prima che sfiga perchè fa schifo ma cazzo che fa schifo che ci capita questa mappa pietro penso sentienti essendo che non la so fare ok il blu tagliartano qui ti amo ok eh niente no se no tanto non serve nel ferro non fa sbrigio che bello che fa che fa ha dovuto qua dopo sui scelte ragazzi sono deficiente no sotti perché c'è niente se avevano spiegato blocchi sono dato via sono sbagliato da un tattino il vero un secondo e lo buttato della anzi no veniva di qua scritta sono scemo non ho scritto anche adesso è stupo blu pt dnt no non farlo ma se per per il blu e niente va ma che ci fai viola si dammene dammene tutte dammene tutte viola anzi dammene 2 e ho perso tutto si dammene 2 ma ben tanto lei ci ha montato quindi si sta arrivando il blu e dai quanto quanto cacchio cosa sto diretti acqua ah beh si si però dove cavolo hai togliato prima ah arriva ai rosa ma dai a me a me ha eliminato io no quelli azzurri stavano citando vabbè mazzurri ho eliminato ma che questa fa mi ha tolto i blocchi mi ha tolto i blocchi ma mi ha tolto i blocchi ma tolto i blocchi nooo ma è un blocchi mi ha tolto i blocchi mi ha tolto i blocchi ok dammene un po' ammazzo 3 ammazzo ti ha ammazzato dammi un po' di ferro dammi un po' di blocchi e un po' di ferro dai ammazzate io sono morto un po' di ferro guarda che siamo stai eliminati dammi dammi del ferro e le tnt 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 ma pietro è enti o non è ah sono fatto dimmi se mi arrivano dal dietro no ok no perchè c'ho paura che mi stanno lì dietro da aspettare che arrivo chi? ah ah stefano si non c'ho blocchi post torno in base torno in base vieni vieni no non spaccagli il po' ponte però intanto cerca di andare in base nella loro base vieni nella loro base vieni nella loro base vieni nella loro base ah no ci vado ma quale base non hai costruito niente cold p v v v strutture v verde cascata esce dal libro facciamo uno sperato tra l'altro questo e niente però che non arriva qualcun altro no l'ultimo l'ultimo lo scovalco non è vero di busco un uomo ii letteralmente stagg no 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 eh no sono morto pure io tutti e due meglio così no aspetta ho pensato che c'è abbastanza blocchi aspetta 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 ehm no mamma ucciso mentre stavo prendendo stai stai bene io sto bene o ops ehm il buon verde casca oh cacca vale vai l'ha buttato giu come l'ha c'è a perché fred fred facciamo così no stai io ci sto eh l'ha ammazzato stai pensate vabbè, è ucciso? no, è vero stelago troppo stelago davide mi fai una cortesima, non vedi non vedi non vedi non vedi l'opper 19 davide mi faresti la cortesia di tu 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 mi fai da la cortesia di di spegnere il wifi il 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 ok 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 noi siamo il blu no? si non fermo non mi servono non mi servono non mi servono ciò dammi una spada in ferro più che altro no ma in realtà non devo dare il ferro no la lana non mi servono non mi servono la lana non mi servono dobbiamo togliare il ferro dobbiamo togliare il ferro puoi togliare il ferro? buona cosa ah si vuoi ammazzare che vuoi fare mazzai verdi? perché vuoi mettere TNT? dobbiamo andare in anzi ma famo cosi famo cosi famo cosi adesso butto TNT oh e te la goto facciamo unire via via ecco abbiamo il verde che c'è va scappo scusando sto spammando contro all'aiuto stai arrivando stai arrivando stai arrivando ma cacchio ha rimesso i blocchi vediamo quanto ho ruccio così c'è da un po' so che sto auguro io perchè mi hai detto perchè tu è molto lento perchè tu è molto lento oppure sei te che da come sei scappo oh adesso vuoi ritornatemi dai verdi l'italiano sto parlando ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta stavo parlando quindi no mi sono bucao minecraft ah no no mi sono ecco assistente vocale tutto ma che cazzo no 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 ma capì no 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 ma che no ma che stai stop parlando no no stai zitto oh ma capì oh ma capì ma capì chialzo e che cazzo stai fero e che cazzo chialzo ps5 stai fero stai fero Metti Metti la dnt qua Team giallo illuminato Pietro perché mi è stato attivato l'assistente con quasi Ah what off Stefano, ho preso full tema Ma come si... No, ho acquistato due però ok No, sono fatto una domanda Non ho fatto una domanda Stai, vado, devo ucciderlo Stai, vado, devo ucciderlo Pierpiero è stato ucciso da trattino basso Type money Stavano cerca di spavaglio addosso Stavano La scelta 965 È stato fatto cadere da Natsuki 347 Sei morto Rientro tra 5 secondi Rientro tra 4 secondi Rientro tra 3 secondi Rientro tra 2 secondi No No vabbè Pronto a giocare Rientro tra 2 è entrato 12-16 Corsito è entrato 13-16 Sì sto la piappiero Pingo 200 La partita inizia tra 10 secondi Alex Siltizio 113 è uscito 12-16 Carpini 3 è entrato 13-16 La partita inizia tra 5 secondi La partita inizia tra 4 secondi Menù di gioco Usa il cursore del mouse Per selezionare un elemento Levy wifi? Oh finalmente si è disattivato E togli i wifi E spegni google Ok Perché sto laggando E se 2 GoCRA è stato fatto cadere da Cursito Cursito è stato dominato da Dazansa Due cose stanno connessi alla stessa rete Menù di gioco Usa il cursore del mouse o il tasto tab Per selezionare un elemento Beh Pierpiero ha incontrato la morte Grazie a un'altra Cursito è stato Menù di gioco Usa il cursore del mouse o il tasto tab Per selezionare un elemento Cursito è caduto nel vuoto Alle 2-0-1-4 È stato fatto cadere da Pierpiero Pierpiero ha fatto guadagnare la cancelletto 1,006 Final kill Only da Montrattino basso Trattino basso Final kill La spada Team eliminato Team rosso eliminato Bloxotic 2 A subito 8 La spada Gioca in molti Giocatore Selezioni Pietro tutto chiude minecraft Sì Ma andiamo a trajattare i contri verdi Pietro ha chiuso minecraft Caduto perché pingavo 300.000 Non puoi capire Assistente vocale Ok Ok bravo No devi tenere premuto control No No Non vuoi Poi il TNT Se c'è l'oro Prenditi Spada in ferro Armatura E mele d'oro Mi ho laggiato Nella guomile Mille Ti ho ucciso? No cacchio Ehi toccato un tag Perché Tre 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 Tac 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 Due Tac Ok Adesso sono full ferro Sì sono full ferro Torriano mi batto Sciottato Ma vuoi sciottato Ma vuoi sciottato Dimmi stai Vai dimmi Ho dovuto chiudermate Devi toccare Esc Tocchi Esc Audio e video P sono le cesoie Le cesoie No Non si è di satirato Fida di Mi ho fatto per me Certe volte No ma dai Sono gialli E dai E no E dai Dai Ma no Ma l'ango Mille Faccio 800 800 E mesi Ma una roba Stai Io più 800 No Abbiamo perso No Stai Siuscito Devi fare Ah Tranquillo 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 Sì lo so Riapri Mentre ti aspetto Mentre ti aspetto Anzi non ho un suo Edemain Che suo Edemain È italiano quindi E a me mi si è impallato Il ciaffetto Davanti la funcina Chi in mezzo lo schermo No Stefano mi senti? Sì No Sky Wars Non Sky Wars Non Sky Wars Sei Sì S No Non 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 come in oro ah ehm il viking no mamma mia il vichingo cosa vuoi da me il vichingo non mi fa manco prendere il loot ma perchè ma perchè ma perchè non mi fa prendere il loot non mi fa... qua su jartex è ancora natale ok oh ok ok oh 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 no 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 cacchio cacchio pietro in quale serve 6 cacciato quanto ci sei ah ma io non sto toccolando pietro in quale serve 6 no 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 ma io non so più no io non sto giocando il kit pv tra un attimo arrivo cosa vuoi da me cosa vuoi da me te ne vado no 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 io sono supporto io sono solo carb code su academic tire swatch ok Transfercast co for arrivo su coral ore ma pareva che giocavamo a giartex si adesso arrivo su coral e anche a me pareva che giocavo a giartex però sei su giartex adesso no adesso sto su coral no fra primo trecento no fra primo trecento ok oddio dai oh dai oh bello Ah ok Ah Stefan comunque quando scrivi Parti in vite puoi anche scrivere Solamente P in vite Slash P spazio in vite Wesh Oppure se tipo ti parti in vite io Tu ti parti Ti join Sempre no Se ti parti in vite io tu mi parti join Oh sto quassù Che bellezza No cacchio No cacchio Oh eccoci Ero Oh Dove sei entrato? Stefan? No ma c'è un champion! C'è un champion! Stefan ma noi siamo nelle due o nelle trio? Nelle duo Nelle duo Duo o trio? Duo Che non lo vedo C'è scritto su modalità? Duo Double Madonna A parte che c'è un legende Legend però E c'è un Il Venox? Sì però io non lo vedo perché c'ho Barretta che mi copre sopra Non ho pensato a metà come non ho pensato a metà come no 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 Ok Dammi un tattino di oro E di ferro dammi il ferro e l'oro Ok Ma che te l'ho? ma che carpi ah stefan se vedi che c'è tipo 20 non so di ferro ma dai no se vedi che c'è tipo 20 di ferro fatti le ce soie che con le ce soie ci ci rompi velocemente i blocchi di lana mi dai un tantino di ferro che mi faccio queste famose ci soie e magari anche la spada in pietra vabbè comunque appena c'hai 12 di oro aspetta come come oh eccoci tac tac f ci facciamo pure un tantino di golden apple che non fanno male stefan tieni una me la loro troppo da lì no ma perchè cos'è sta roba levati levati ok 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 il secondo che ok ok il mio è scalzo è scalzo guarda lo è scalzo è scalzo ok lì mi dà un tattino fastidio ok o bambu 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 credo di aver buttato giù bravo stef 10 ce l'hai i due di oro anzi no niente 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 ce l'ho io dai tac 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 ehm tac str bulla no min – stefan stai qua un attimo a che carpi che carpi che carpi �� carpi carpi e che carpe e che carpe che carpe unica carpette che scarpe ce l'abbiamo due in base ok si è morto non distruggendo ciò per letto ciò per letto si ci ha fatto il letto niente dai stefan corri ho spammato tu ho perso la voce eh mi sa tu e stefan devi mirare c'è vedi che c'è un mirino in mezzo c'è una freccetta in mezzo tu con quella freccetta ci miri capisci dove dove colpisci colpire con la freccetta semplicemente cambio crosshair che mi prendo la freccetta pure io se no crosshair che lo levo direttamente che bel crosshair la palla non la freccetta è così è è se ti voglio fare il mio figlio se partite un giorno no no non voglio ciò che lascia non mi piace se vuoi ti insedi ma te sembra no se partite un giorno no non voglio imparare giochi tracce no sull'ultimo blocco cacchio ce l'ho quasi a buttare sull'ultimo blocco ma perchè steli e niente e niente ma ci mi ci fa ci fa ci fa ci fa ci fa ci fa ecco complimenti non 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 no 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 si sa che mi dici se e il fai lì il genitore c stefano guarda tu ok anche io so diciamo perchè posso fare questo modo è troppo brutto no 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 su tutto a caso e intanto niente la mappa mi butta giù no è proprio la mappa metti ok no stefan copriletto o copriletto pure qua ci fanno fuori no stefan stefan qua devi coprire qua questo blocco qua poi ci sono delle decine di più che se c'è lì ci sono dieci fu fuori me che non si viva ops io compro tutto o e' giudizio piaci d'attivare blocchi qua d'attivare blocchi u u niente intai 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 se poi niente c'è fatto c'è fatto c'è fatto l'attività abbiamo pure perso pure perso il game abbiamo perso il game ste devi devi tirare devi cercare di ucciderlo stefan senti facciamo così vieni su vieni su jartex ah si no su edemmine che jartex ha tolto i duel vieni su edemmine edemmine vieni qua su edemmine dopo il selectorio sei su edemmine stefan dimmelo sei su edemmine si è tutto sei 5 tocca 5 5 tasto destro ho capito quale pratiche 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 18 17 18 19 19 19 19 che devo fare? eh ci sei entrato? adesso devi fare di slash duel Pierpiero ma perchè qui su Edmine faccio 50 ms l'hai fatto? l'hai fatto? l'hai fatto? si che devo fare? stefan ci sei? si oh pronto? oh ci sono eh eh lo devi fare team slash duel per Piero l'ho fatto l'ho fatto eh duel per Piero l'ho fatto stefan ma mi senti oppure si sordo? ma te sento però te ripeti sempre le cose che ho già fatto no no ma stefan no ma stefan io ti parlo? e tu? eh te l'ho detto eh te l'ho detto si ma in quale devo andare? no divaf boxing e due cacchio devo andare? devi fare slash duel Pierpiero l'ho fatto l'ho fatto la centesima volta la centesima volta l'hai fatto? si l'ho fatto eh tocchi uno tocchi uno ma ho fatto allora quale devo andare? no divaf e vai sul secchio di lava secchio di lava ah 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 devi entrare oh ripeti 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 ferma ok eccoci fermo adesso no sono entrato sono entrato in combattimento con l'ottizia che neanche conosco ma sei te si te scusa misfera oh 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 scoprini nel vento del vento del vento del vento colpo per questo colpito i te l'avevo detto ste però adesso non attimo che risposta ma parli con tu madre stai parlando con tu madre sono solo a casa no ma non ci credo ma no ma no vabbè allora stefan hai fatto hai fatto adesso che mi mi fai due ok sempre secchio lama sempre secchio lama no debuff no debuff no debuff oh eccoci eh no eccomi 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 ci sono bom 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 non è che si chiama golden head ok golden head sta fermo non credo non dobbiamo combattere perchè non mi fanno sta fermo oggi non dobbiamo combattere ma in quale dobbiamo andare su quello semplice che se non sì no ma sto scemo oh 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 mi stai distruggendo mi stai distruggendo mi stai distruggendo mi stai distruggendo ma è distrutto No! Non ci credo! Fai T! Sì! Eh, slash, duel... Non ci ha fatto, non ci ha fatto, non ci ha fatto! Sì, Pierpiero, non ci ha fatto! Non, non, non so... Sì! Aspetta un secondo, eh! Sì, secchio di lava! L'ho già cliccato, devi partecipare! Sì, te l'ho detto, il secchio di lava! Sì, quello della lava! Eh, l'ho già fatto! Eh, bella questa porta di botole! Oh, magari fu... Aspetta, come fu... Aspetta, come fu... Aspetta, come fu... Aspetta, come fu... Ecco, secchio di lava! Ci sei? Ho detto... Ci sei? Che intelligenza per fare un nuovo... Non ci sei. Oh, non... 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 6 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 14 13 14 15 15 niente occhietà se il segno di lama bus ho scritto comandi troppo veloci scusa testa sto laggando ok ok potresti rifarlo vabbè ancora non ho neanche chi l'altra volta rifallo per favore perchè non 2 lo rifatto si deve rifare due all'esatto esatto 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 l'ora io sono stato chiccato ecco 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 l'attere ok ok ti sto davanti non combattiamo adesso ma in quale dovremmo andare su bui ti sto davanti cavolo sto davanti a te adesso non dobbiamo combattere l'epoca poi la sta pastato stuporco di stuporco lo vivo per il miracolo ma non è Pietro, puoi condividere lo schermo? C'è qualche sensazione? Ok, adesso, basta, basta, ok Intesi? No, l'ho già mangiata Sta fermo, basta! Sta fermo! Entra nel secchio di lava Ah Quando mi fa entrare, dice che Questo giocatore è stato dotato Ma perché sei così veloce? Adesso io non ti uccido Non ci uccide qualche sensazione che non funziona No Allora, due Pier No, basta, basta, mi fanno, mi senti in ritardo Lo so No No, 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 no Perché me, anzi Ma perché mi senti in ritardo? Dai, stai, sto a rin... Basta, basta, non combattere Io sono già fuori Ti sei pagato? O ci fai? Riparti a invitare E non mi fa, sei uscito fuori Mi sa se è uscito fuori Gli dice che non è in questo secco, ma sei logato fuori? Sì, sei logato fuori? Stefano, ti sto riduellando Ritualvi, due Ma... Fatto? Aspetta, Pier, Pier Privato? Ma sei uscito fuori da sempre oppure no? E' ancora arrivato Non mi dà, non mi dà, non mi dà Poi sei in ritardo Dai, stai su coral Non mi so Non mi so Non mi so Credo di aver capito Ho capito cosa è successo Tu mi senti Sto su coral mc Io sto andando adesso Perché parli di tardo Sembra che... C'è qualcuno che non va Adesso ti fò parte in vite È uscito? È uscito? Non mi so Mi senti? Sì, mi senti Oh, tu voleva far parte in vita Tu mi senti senti tanto in ritardo? Eh Che ti pareva che io stavo giocando con te ma poi non è vero Eh esatto, ero così, così infatti Aspetta un secondo che devo riuscire ad entrare in accordo Non perché stai pagando Scusa se mi so arrabbiato con te Tranquillo Perché tu mi senti in ritardo? Io ti senti in ritardo, quindi no Vai Per farlo in diretto Adesso Come si senti? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Lo sento? Lo troppo Ti ho cambiato la parte Sì Sì, ho visto Ok Vai Vai Se c'è qualcuno in treo Quanti 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 ciao c'è un passare 34 la salute no sono scemo eccoci i mesi eccoci eccoci Siamo in giù? No, Stefan, perché siamo entrati nel, sei entrato nel duo Ci siamo parte, io non so anche giugno Ma anche stamane, amici E io stai nell'destravo, una dalla 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 la E se te vanno ancora qui posso... ...tosso, no? Ma come? Guarda già? Ma che succede? Ma già già non succede? Sì, no, questi sono delle persone che cittano, ok? Non sono arrivati col ponte. Non hanno fatto il ponte come fanno tutti. C'è Dream. Eh? C'è Dream. Dava non è Dream, tranquillo, non è Dream. E' solo un tiz che c'è la skin. Sì. Ma che di Dream era più... ...una comune. Soprattutto qua su Koran. Molto... Ma... Ma... Oddio boh! Dado scorso! Ma che va? Ma che va? Ma... ...cappiammi cosa vedi? Ma siamo in... No. Ma no, non vedo niente. No, no, no. Non vedo niente. Perchè? Eppure? Eppure? C'è... Che va? Si? No, no, no... No, perché stavolta è un po' buia, è per questo che non mette. No, no, no! No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. Non puoi capire di quanto è blanco, faccio un'unica, mi piace più bella. Ma come hai fatto? Come hai fatto proprio? Estefan è il pingotron, non è stato proprio, non è stato proprio. qui mi ha fatto la TNT la prima volta ma questo è solo perchè ecco perchè c'avevo tutti questi materiali su questo ok ok stefan vienimi a portare delle mire d'oro fuori stefan portami delle mire d'oro e come fa? e devi prendere delle mire d'oro? vieni qua e poi tocchi 2 mire dai guarda che ho usato i tnt ok se ne sei accorto schermo ok così dai 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 ci posso fare ci posso fare? IOS ok ma perchè mi sono rientrati lì? voi dati cioè buttati nel vuoto 10 arrasciare 10 posta nonostante fatti fai di slash friend per Piero siamo entrati ok si lo so fai slash friend per Piero ok se in ogni modo entro entro su una RedWords o anche su Coral a te c'è la notifica toviate la richiesta d'amicizia toviate la richiesta eccola scale fa 5 minuti ok bravo no no l'ho accettato bravo ho visto 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 ok 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 No. Aspetta. No, sono sce... Volevo essere... Ok. Stavo letteralmente mettendo il TNT. Ho sbagliato. Cacca. 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 Va, va, va. Aspetta. Non uscire, eh. Ok, che, che... Che casco! Ma come l'hanno costruito questi sce... Vabbè, abbiamo perso. No. No. Stiamo ancora a vincere. Però vabbè. Fai tutte ste facce. Ma che quanti? Ma sono topi! Mai visto gente così? Di qui per fuocato. Perché c'è questo tizio che te guarda? Chi è? Sì, sono. Mi sa un hacker. Niente, oggi... No, non c'è un hacker tranquillo. Pietro, perché quella volta non hai partecipato al concorso degli hacker? Eh, perché... Non potevo andarci. Cioè, non c'avevo tempo. Ah, ok. Ma tu sai dove è il sito? Perché io non mi ricordo neanche. Eh, c'è un sito. Non mi ricordo qual'è. Ah, c'è un sito? Sì. Ah, che... Mek. Mek. A-K. Homertini disine立i assて, parte. Un sangujo che c***i! Chi части sugli turi ? Aspetta, voi sostienehi senza che c***i giù. Non c chicks giù! Ma.. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, io devo salire fuì! Aspetta, oh! Gamma! devo salire ho messo i tnt ma io sto scema lo strumo è su no oh no 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 non è vero sono stato sguardo a me oh ma hai sott morti stacca lei è morto lei è morto lei è morto come ho fatto come ho fatto no 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 dai 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 muori muori no no se va se va no vado me fa morire non ci so l'nnt mi attiene ok mi ha ucciso tutti vabbè ucciso anche l'altro tizio rarri ragazzi smuff kid ne va passo dai 40 circa passo dal 40 a circa 300 adesso sto quasi a 400 È un po' meritano. È un po'. C'è... Non mi ricordo di chi. Dì, dì. È il mio amico. È dei miei amici. È il mio amico. Io salgo su Non faccio male Stefano non farti male e dopo moriamo Bene No Letteralmente corre la messa temporale che anche oggi da noi c'è il temporale No, no, Stefano tu che hai il merendista sa un po' che ti accaccia No, no, no C'hai il merendista sa un po' che ti accaccia No La vuoi che tempo fa? Ciao Eh? La vuoi che tempo fa? Ma... e... l'auto... e... Tempo che fa? No! C'è arrivato un impasto! Come si sa? Non si sono neanche accorti Che ero salito Mi sono nascosto Pietro mi devi dire solo se l'hai uccisi No No Ah Ti dico soltanto che... Dai, ti sopporti! Però... Bene Oggi raggiamo sul gioco a cubi A che cazzo Ma che cacchio Mi aspetta un po' qui C'è il mio frattempo che vuole giocare? Non si ha capito che siamo troppo Che ti dico Che carpi Mi... Stefano, mi si è baccato No Ok Ecco la mia Ma che c'è il gioco? 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 E' la stessa mappa di pino Sì Sì, lo lasciamo subito Ma che buio Di serio Più C'è il gioco? Sì 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 Doc Od non mi piace ah perchè io ho fatto un evento ah hai fatto un evento? si che termina il primo di marzo ti puoi giocare i livelli online che mi dicono i fans e anche i giochi perchè tanto poi a marzo esce pure il mio seno multiverso 3 quindi ok vai clipo clipo senti qua c'è colpa tua caccia ho preso legisci legisci con lbs oppure game bar game bar ah a me se l'abbiamo a scattata scattata anche a me se baca game bar adesso quando il gioco c'è un gioco mi dice sempre ma perchè quando camminiamo diventa sereno e poi camminiamo di io sono scemo no stai facendo caccia da rendere senza male non è vero fatto così è fatto così è fatto così è fatto così oggi siamo su fai piccone fai piccone fai piccone e ci fai fai piccone e ci fai fai piccone e ci fai no vboard bacchi ccc but v cosac v la scuota google marcarpin non gioca al bedwars cosa ma carpi non gioca al bedwars si testo non so ma perchè c'è un tizio che si chiama carpi pietro arca cerco di fare la tecnica tua l'ho sbagliato sbagliato come fa montare datumontite e' neanche su e continuo io ci vuole si continuo ci vuole si vuole se sbaglio colpa mia ok 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 per te non c'è città via il momento c'è uno cosa buoni come fa montare come fa montare non fa montare oh 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 arrivai giallo arrivai giallo arrivai giallo il mangiato anche se non si tratta non si tratta e io ho votato se li ti accasso e c'è l'altizio giallo con la barba con com'è apparecchi a messo a sedere a adesso è arrivato a rotuleta no vita da vedere vai a fermare un secondo simon stai fanno stai fanno io adesso vado a chiamare mia madre ok io adesso chiamo mia madre ok vabbè vado a giocare lui non sa giocare a microsoft ti avviso bruh no 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 Pietro oi ma come si leva? c'è una schermata oi stefano si ma come c'è una schermata una crafting come si leva? sarebbe sarebbe c'è scritto G Pier Pier G Pier Pier ah quello ah quello quello non si può non si può non si può non si può deve non si può vado 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 che non vado ok 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 Sì, 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 sì. no 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 lascio infatti E' un po' di più.. E' un po' di più.. E' un po' di più.. Sì, 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 sì. Stéphane, parte di venire! Ok Quiter' da, da, da... 2003 dopo Grazie a tutti. 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 Ok. 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 c sicuramente vinceremo questo perché c'è anche un altro tizio forte miso rs e la vinceremo di questo grazie a quel tizio smurf cat che è letteralmente quello guarda che era il primo giorno dentro ai adorsi dopo ok no ma quanto togliamo il suo smurf cat a togliamo attorno ecco continuate continuate continuo ecco non me l'aspettavo veramente neanche io è un jamsker jamsker di fuoco no ma l'altro giusto è uscito a tutto ci sia uscito a no c'è 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 pazza sozza di decivo quindi sbagliato quandomachen per me perciò si muove che è perciò no no assolutamente i blocchi vediamo quante forti e niente ha perso pure su smush kate perchè mette blocchi a caso ma basta ma mette tipo blocchi a caso si è giusto e niente devo recuperare tnt chi è su chi è su chi è su qui è un tizio un tizio un tizio un tizio si è un tizio ah so morto ma spam ma questi qua spamano bro dai tizio smush kate tanto ce la puoi farsa mentre io e te sei un po' impossibile che perdi qua ha perso ha perso no ecco vado vado ma perchè io uso sempre ma perchè io uso sempre contro c sto scemo no 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 cavi eh niente eh rijoina tocca tu facci no 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 posso farlo oh oh fate quella ti prendovi al suo spie ti sarà quella di far andare Ah Pietro E se sono comparsi i voti I voti? Sì Di cosa? Della verifica di matematica Ragazzi c'è Cristian Cristian Man Cristian Man C'è Cristian Man E letteralmente è Cristian Della nostra scuola però Non so un altro tizio Pietro comunque Cristian è ricco Cristian è ricco Interamente Ricco Che è successo? Oh no 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 Arriva ai gialli Arriva ai gialli Aspetta Tieni ti Tieni ti Ti piego No 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 Stefan Perchè? Ops Stefan L'ho più conto Un'altra volta L'ho più conto Ti ammazzo Ma questo qua C'è la skin di Aerobine Certo che è città Ma capito C'è la skin di Kendal Che letteralmente non è lui No Master anti master Ma che cavolo di non è Stupi Ah ok Dai vado io a briggiare Stefan Prove Curata 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 15 14 15 15 16 16 16 20 16 16 18 18 19 19 20 20 21 22 22 e comunque ragazzi grazie per aver guardato questo video lunghissimo mando durava quasi due ore perché ho la giocatura e quindi vabbè adesso aspetta un'issima il microsoft si può che non è così va bene non spero che tocca aspettando che aspettare la spesa ok è chiuso se vi è piaciuto questo video lunghissimo che durava un'ora e 40 e no sa 41 quasi si si un'ora e 41 ecco lasciate like e iscrivetevi al canale ci vediamo nei prossimi video